Bentornati all'appuntamento con voto in comune, l'approfondimento politico in vista delle amministrative del 12 giugno in onda su MTV Canale 89 e Radio Nuova Macerata. Ospite studio con me c'è il candidato per le amministrative di Corridonia, Sistino Tamagnini, con la lista Corridonia rinasce per Sandro Scipioni, sindaco. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Per lei perché la scelta di candidarsi per la città di Corridonia? È una scelta che nasce un po' dalla mia caratterialità, io sono sempre stato impegnato per mettermi a disposizione e per cercare di risolvere le criticità quotidiane che investono la mia comunità, sia essa piccola o grande e quindi su questo fondo e propongo la mia candidatura. Come trascorso ho un trascorso come amministratore di un'attività commerciale, poi ho intrapreso la carriera professionale di infermiere e da 30 anni ormai rivesto questo ruolo che mi ha visto partecipe come presidente di una cooperativa di infermieri quando c'era la crisi occupazionale per gli infermieri, quindi a disposizione per trovare un posto di lavoro per gli infermieri. Poi attualmente rivesto un ruolo come infermiere operatore della centrale operativa 118 di Macerata dipendente e nel mio tempo libero sono presidente di un'associazione, il CIVES, il coordinamento infermieri volontari per l'emergenza sanitaria che opera a tutto tondo a sostegno delle popolazioni in difficoltà sia in Italia e all'estero e in tempo di pace a favore della promozione, della tutela della salute dei cittadini e dei nostri vicini e compaesani. Quali sono i valori che contraddistinguono questa lista civica Corridonia Rinasce? I valori sono l'unicità di questa lista perché è formata da persone giovani e da persone che hanno voglia di mettersi in gioco, che come me e come il nostro candidato sindaco ci mettono la faccia di prima persona e sono disposti e disponibili a rispondere delle proprie azioni in qualsiasi momento. Noi siamo sempre dei peribili, quindi per qualsiasi necessità il cittadino che riterrà di sostenerci con il proprio voto sa perfettamente dove trovarci e quando. Quali sono i punti principali, le priorità all'interno del programma? All'interno del programma? Il programma è un programma a tutto tondo che ovviamente non basterebbe un'ora per descriverlo in maniera particolareggiata, ma quello che a me personalmente preme è quello che intendo portare avanti è sullo sviluppo del percorso sanitario all'interno dell'amministrazione di Corridonia, cioè mi riferisco all'ospedale di comunità, alla casa e alla salute che sono già previsti dal PNRR e con investimenti anche considerevoli che devono però ovviamente trovare un'attuazione e una luce e su questo noi saremo pressanti e presenti. Nel frattempo che cosa possiamo fare e che cosa possiamo proporre? Proponiamo di amplificare le attività ambulatoriali che al momento sono carenti nella nostra zona, come attraverso la messa a disposizione di locali comunali o con convenzioni con professionisti privati a prezzi ovviamente calmerati in favore della popolazione per consentire a tutti di avere un accesso alle cure o alle specialità che al momento attuale il servizio sanitario pubblico non riesce a garantire, ma l'obiettivo sarà quello di fare un percorso sicuramente volto per concretizzare questi due aspetti che sono fondamentali per una comunità come Corridonia, l'ospedale di comunità e la casa della salute. Quindi quali tempi e modalità e quanto l'amministrazione può in questo incidere su quello che è una competenza anche regionale? Un'amministrazione può incidere per il semplice fatto che bisogna essere presenti e costanti e la costanza, la presenza e il volere fermamente un qualcosa porta al risultato. Io questo l'ho potuto sperimentare in diversi settori e ovviamente costa sacrificio, ma un amministratore il sacrificio lo deve mettere al primo posto perché uno si candida non per piageria, si candida perché sa che si deve mettere a servizio della comunità e mettersi a servizio, io lo faccio quotidianamente nelle emergenze, significa avere spirito di sacrificio e non guardare al proprio ma guardare agli altri. Come vede questa competizione elettorale, questa corsa a tre con tre candidati, sindaco per il comune di Corridonia? La corsa dei candidati, sono tre candidati, però noi abbiamo scelto come politica nostra di non guardare troppo approfonditamente gli aspetti di uno o di un altro, noi facciamo la nostra politica, noi diciamo che portiamo avanti in maniera sobria e in maniera tranquilla le nostre posizioni. È chiaro, noi rappresentiamo la novità per Corridonia perché siamo tutte persone che sono al di fuori dei contesti politici o partitici, quindi non abbiamo direzioni già imposte a priori. Abbiamo una gran voglia di fare, abbiamo l'esperienza, la capacità e la professionalità che ci contraddistingue nei vari ruoli perché ognuno ha il suo vissuto, il suo passato e quindi noi diciamo Corridonia può fare la svolta. Chi ha già amministrato avrebbe dovuto dimostrarlo prima quello che era in grado di poter produrre, non certo negli ultimi mesi con una sfaldatura o con il taglio dell'erba perché purtroppo abbiamo, io per lo meno ormai o qualche anno abbiamo spesso assistito a situazioni di questo tipo che a ridosso delle elezioni sembra che l'amministrazione comunale sia proprio fiorente ma in realtà sono bagliativi che non illudono i cittadini perché i cittadini ormai hanno imparato a capire e a vedere effettivamente chi fa cosa e come lo fa. Quale sarà la sua di campagna elettorale? La mia campagna elettorale è una campagna elettorale che non si discosta tanto dalla mia vita quotidiana in mezzo alla gente e per la gente. Io sono il primo a proporre ma sono anche il primo a lavorare e a mettermi a disposizione per concretizzare magari progetti, attività, iniziative, coalizioni con le associazioni di volontariato, istituzione per esempio del taxi sociale che è una cosa che serve e necessita a persone che sono magari in difficoltà nel raggiungere determinati presidi e non hanno la possibilità di raggiungere i mezzi pubblici. avere uno sportello, per esempio istituire uno sportello sociale, socioassistenziale dove c'è la possibilità di far richiedere al cittadino un servizio per le cose banali, semplici, cioè quello che magari per noi è scontato per un ottantenne la compilazione di una richiesta per una prestazione sanitaria che adesso si fa tutto online potrebbe essere difficoltosa e noi dovremmo essere in grado di essere vicino alla gente anche nelle cose semplici, come si risolve un problema sanitario nell'assistenza di un paziente a domicilio. Spesso e volentieri siamo interpellati come servizio di emergenza impropriamente, quando basterebbe essere tra la gente, in mezzo alla gente e soprattutto informare e formare le persone con poche e semplici nozioni per dare la possibilità a tutti di risolvere queste piccole criticità che diventano insommontabili se uno non ha altri mezzi. Grazie per questa intervista a Sestino Tamagnini, candidato Corridonia Rinasce per Sandro Scipioni, sindaco, amministrativa del 12 giugno. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti.